Ciao, oggi vorrei parlare della pratica della monacazione forzata. Allora, la storia di Gertrude, la nostra monaca di Monza, che occupa, abbiamo visto, ben due capitoli all'interno del romanzo, il 9 e il 10, poggia, cioè alle radici, su una pratica storica, reale, vera, che era molto praticata ai tempi, su cui vale la pena rifletterci e che vale la pena approfondire. Allora, la pratica della monacazione forzata consiste nel costringere, praticamente, nel portare, anche in modo furbo, subdolo, poi ne parliamo, le figlie femmine all'interno di una famiglia a farsi monache, cioè nella sostanza funziona così. Forzate perché? Appunto perché non è spontanea, non è la ragazza, la giovane, la donna, che sente una vocazione, sente questo desiderio e decide di farsi monaca, il che non c'è nulla di male, ovviamente, anzi. Forzata vuol dire che queste ragazze non sentono davvero una vocazione religiosa, ma sono costrette dalla famiglia. Vediamo per quali motivi, tra un attimo. Questa pratica, dicevo, ha delle radici nel Medioevo, quindi è una pratica molto antica, però continua a lungo, molto a lungo, nel corso dei secoli, nonostante, pensate che addirittura la chiesa, la chiesa di Roma, il Papa, con il concilio di Trento, siamo a metà del Cinquecento, avesse in realtà, come dire, frenato o voluto frenare questo fenomeno, dicendo che non era lecito, bisognava che la futura monaca innanzitutto fosse d'accordo, ma soprattutto volesse, insomma, sentisse una chiamata da parte di Dio. Nella pratica, però, le cose vanno diversamente. Infatti, le famiglie ricche e nobili, proprio obbedivano alla legge, si dice, del maggiorasco. Poi vi spiego che cosa vuol dire. Nel Seicento, quindi ai tempi del manoscritto, diciamo, finto di Manzoni, ai tempi in cui è ambientata questa storia che stiamo leggendo, era una legge che esisteva ancora, proprio come legge, ok, ufficiale, in tutta Europa, non solamente in Italia. Invece, nell'Ottocento, l'epoca di Manzoni, quindi quando Manzoni scrive, era non più una legge, non più una legge in vigore, insomma, ma rimane comunque una pratica diffusa. Quindi non è una legge a cui ti devi attenere, ma è una pratica, quindi un'usanza, che tante famiglie seguono. Questa legge, dicevo, che cosa stabiliva? stabiliva che, alla morte del padre, il patrimonio della famiglia non si dovesse suddividere tra i vari figli, come accade oggi, ma che dovesse passare tutto intero, diciamo, in eredità al primo genito. Quindi è proprio una legge che riguarda le eredità, i patrimoni. Allora, diciamo così, tutto bene se hai solo un figlio, perché, vabbè, hai solo un figlio, il figlio si prende tutto, punto, basta. Cosa succede però se un padre ha tanti figli, e magari anche dei figli femmine e dei figli maschi? Allora, gli altri figli prendono il nome di cadetti, maschi e femmine, non importa. Quindi c'è il primo genito e ci sono i cadetti. Questi cadetti, per non far sfigurare la famiglia, che era una famiglia ricca, quindi magari anche importante, conosciuta, devono mantenersi con le proprie forze. Ora, che cosa vuol dire? Vuol dire che, quando il padre muore, questi cadetti non prendono un centesimo, e devono mantenersi in qualche modo. Che possibilità hanno? Se sono dei maschi, intraprendono o la carriera ecclesiastica, quindi si fanno frati, monaci, preti, eccetera, oppure quella militare, cioè non è che abbiano tantissime possibilità, insomma, una di queste due. Oppure, diciamo che una terza via, è quella di potersi arricchire praticamente con qualche lavoro, cioè andando a far parte della borghesia, non più della nobiltà dalla quale appartengono, ma devono cercarsi un lavoro che renda dei soldi per potersi mantenere. Chiaro, ragazzi, che non è che possono andare a fare i contadini, questa gente nobile non è che, cioè non è neanche capace di zappare la terra, non so se mi spiego, ma non lo vuole neanche fare. Il problema nasce quando sono femmine. Perché? Perché le femmine non è che abbiano tantissime possibilità, di certo non possono andare a fare i militari, e di certo non possono andare a lavorare. Quindi hanno una scelta molto più ristretta, che diciamo sarebbe di due possibilità, però in pratica una, adesso vi spiego. Le due possibilità quali sarebbero? Da un lato il monastero, dall'altra parte il matrimonio. Nella pratica però l'unica scelta che rimane è quella del monastero. Vi spiego perché. Il matrimonio, infatti, era normalmente escluso. Perché? Perché per sposarsi una ragazza ai tempi, doveva avere la dote. Quindi una quantità di ricchezze, di denaro, di oggetti, proprio di beni, che potevano anche essere animali per dire, poteva essere una mucca, però comunque dei beni, da portare nella nuova famiglia, da donare, diciamo, al futuro marito. Questo crea un problema, perché se alla ragazza non deve andare nessuna ricchezza, dove la mette insieme questa dote? O in qualche modo la famiglia, con l'accordo del primo genito, se il matrimonio, diciamo, che è abbastanza conveniente, se è con una famiglia importante, insomma, ok, può farlo. Oppure costava molto meno, invece di mettere insieme la dote, dare una somma al convento, perché questo prendesse la propria figlia. Quindi, credo abbiate capito, perché alla fine l'unica scelta nella pratica, o la più frequente, è quella della monacazione forzata. Vi faccio un esempio, ve lo leggo. Ad esempio, nella Repubblica di Venezia, nel XVII secolo, quindi nel 1600, la dote per un matrimonio corrispondeva a 15.000 ducati. Il monastero, invece, per accettare la giovane, ne chiedeva 1.200. Capite anche voi che è meno di un decimo, e quindi praticamente conveniva molto di più mettere la figlia in convento, e fine del discorso. Questa consuetudine delle monacazioni forzate aveva dei vantaggi, anche per il convento, quindi, credo che lo abbiate capito, perché, l'abbiamo visto anche con il caso di Gertrude, le comunità religiose, in presenza di questi figli, insomma, queste figlie di personaggi nobili e ricchi, praticamente, anche loro ricevevano potenza e ricchezza. Da un lato, appunto, entravano del denaro, dal lato acquisivano prestigio sociale, e dall'altro anche appoggio politico, insomma, quindi erano dei contatti che loro andavano a stabilire con le famiglie importanti e di cui, alla fine, gli faceva comodo. L'unica ad opporsi in tutto ciò è quella che vi dicevo prima, cioè proprio la Chiesa di Roma, il Papa. Vi ho detto prima del Concilio di Trento, la Chiesa è preoccupata da questa pratica perché naturalmente va contro il concetto di vocazione, va contro il concetto di sincerità religiosa, insomma, no? E quindi, nel corso dei secoli, approva, diciamo, sempre più vincoli per l'accettazione delle future monache, anche, appunto, cercando di scoraggiare queste monacazioni forzate. Però devo dire la verità che, nonostante questi ammonimenti dalla Chiesa di Roma, la pratica continua a essere molto praticata e molto in voga e diciamo che questi ammonimenti non sono ascoltati. Abbiamo diversi scritti, diversi documenti che sono per noi delle testimonianze importanti di questa pratica e soprattutto che ci forniscono anche così informazioni curiose, a volte ci fanno anche così, direi, riflettere, ecco, su questa pratica che, diciamo, ce lo sembra anche un po' disumana. Allora, i primi scritti che vi cito sono quelli autobiografici di una suora donna che si chiama Arcangela Tarabotti. questa suora Arcangela Tarabotti vive nella prima metà del Seicento, quindi, insomma, diciamo che potrebbe essere contemporanea di Gertrude. Pensate che lei scrive dei testi, appunto, mentre è monaca, che si intitolano L'Inferno Monacale e La Tirannide Paterna. Proprio, vedete già dai titoli come c'è questo clima proprio di durezza, di sofferenza anche che queste donne vivono. Nel primo, quindi, nell'Inferno Monacale, suora Arcangela Tarabotti ci scrive queste parole. Ve le leggo. Il monastero è un luogo che i parenti presentano alle fanciulle come un paradiso terrestre e che, a poco a poco, si rivela loro come un inferno perché privo di speranze di uscire. Cioè, queste sono proprio le parole di una monaca. Sarebbero come le parole di Gertrude, insomma, no? Guardate che veramente grande sofferenza. Guardate che dolore all'interno di queste parole. Cioè, è un inferno, un luogo che dovrebbe essere un luogo di spiritualità, di religione, di riflessione. Insomma, un luogo positivo, un convento, ragazzi, è un luogo positivo. Se una persona lo sceglie volutamente, diventa un inferno. Nell'altro testo, La Tirannide Paterna, Suora Arcangela, ci denuncia invece l'obbligo che i padri impongono alle figlie, perché nella pratica è un obbligo, cercano di convincerle, ma è un obbligo, destinandole, appunto, contro la volontà delle figlie al monastero. Cioè, lei ci spiega come vengono convinte ad entrare in monastero. Ma in realtà, ripeto, sono obbligate, non è che abbiano scelta. A proposito di questo, vi cito un altro testo, siamo sempre a metà del 1600, di un altro autore, uomo questa volta, che è l'avvocato Prandoni. È un avvocato di Milano che scrive un testo, il titolo è in latino, ma ve lo traduco, De parentum in pueros disciplina libri. Il titolo vuol dire libri riguardo la disciplina dei parenti nei confronti dei fanciulli, dei figli. Questo libro ci illustra i comportamenti delle famiglie che erano, lui dice così, determinate a ingannare Dio e gli uomini imponendo il velo alle fanciulle anche se non lo volevano. Guardate che è duro, ripeto, voi dovete sempre considerare, so che l'ho detto tante volte, ma mi ripeto, che ragazzi la vocazione, cioè la chiamata da parte di Dio è una cosa bellissima, però deve essere una cosa onesta chiaramente. Il fatto di rinchiudere delle fanciulle contro il loro volere in convento è veramente un atto di crudeltà estrema, pensate soprattutto nei confronti delle proprie figlie. Quindi, lui ci va a spiegare, questo avvocato Prandoni, come facessero in pratica i genitori a costringere le proprie figlie ad andare in convento. Leggo qualche frase qua e là. Tale è il metodo di questa loro insinuazione che sin dagli anni più teneri le fanciulline siano avvezzate ad aspirare alla vita monastica, cioè vengono abituate fin da bambine a desiderare quello, cioè gli metti davanti le bambole con l'aspetto insomma di monaca, gli parli sempre di convento fin da bambine, gli racconti quanto sia bello andare in convento, eccetera, eccetera. Se per avventura, per caso, il discorso fosse caduto sul matrimonio, sono accolte con lo sguardo bieco, cioè storto, cattivo, con la fronte corrugata, non di rado con lo staffile, il bastone, quindi appena possono da sé condursi, vengono rinchiuse nei monasteri affinché proprio lì si assuefacciano all'obbedienza e all'argidezza, cioè se per caso viene fuori il tema del matrimonio, subito fanno facce strane i genitori e ci vanno se no giù pesante con la violenza. Altri genitori che si mostrano più astuti nei fatti pure a tal punto la conducono, la ragazza, la figlia che vedendosi mal sopportata in casa le sembri di entrare in paradiso quando fa ingresso nel monastero, cioè altra tecnica, la trattano talmente male la propria figlia, la maltrattano finché non è giunta l'ora di entrare in monastero che lei quando può finalmente allontanarsi dalla famiglia le sembra tutta una gioia, ma in realtà è una tecnica, è una strategia. Oppure ancora, certo tu sei la mia vita, il mio amore o figliuola, niente mi sta più a cuore che ti sia lasciata la facoltà di obbedire alla volontà tua, ben volentieri ti vedrei collocata fuori da ogni ordine religioso nel matrimonio, ma guardati intorno figlia quante disgrazie devono sopportare le maritate quelle che hanno un marito, per contrari qui niente manca, posseggono tutto e frattanto cioè nel mentre trascorrono una vita felice mentre attendono la beatissima felicità perpetua dello sposo celeste. Guarda figlia, guardati, non io ti consiglio la vita religiosa, gli è che temo per te quella secolare, cioè guardate l'inganno, gli dicono guarda che non sono io a volerti mandare in convento, in monastero, no, 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 guarda però quelle donne sposate quante difficoltà hanno, guarda come potresti essere invece felice qua e quindi ragazzi è veramente un inganno, è una minaccia che ha l'aspetto di insomma un inganno però alla fine insomma considerate la sostanza. Queste povere ragazze sono costrette in un modo o nell'altro ripeto con la violenza oppure con le parole ingannevoli a entrare in monastero contro la loro volontà con la loro volontà